Oggi più che mai, l'insegnamento delle discipline umanistiche non può limitarsi ad un accumulo di trattazioni di testi e di autori, per quanto importanti. Ne può seguire passivamente la tradizione didattica. L'errore da evitare, però, è quello di aggrapparsi alle nuove metodologie solo perché hanno delle sigle accattivanti o perché tutti ne parlano, a volte senza conoscere fino in fondo le caratteristiche fondamentali. Questo corso si presenta come una guida pratica allo studio e alle analisi di alcune delle metodologie didattiche più efficaci per l'insegnamento delle discipline umanistiche, con esempi pratici, concreti, che partono da esperienza nelle aule e tra i banchi di scuola, da insegnante a insegnante.